Elezioni amministrative 2021 a Caltagirone, Fabio Rocuzzo espressione politica di centrosinistra è il candidato sindaco della coalizione La Città che verrà, cui aggrega quattro liste, Caltagirone bene in comune, Partito Democratico, Cives e Cittadini Volenterosi. Dal punto di vista politico si è quindi ricuscito lo strappo con la classe dirigente del PD all'orquando alle amministrative 2016, Rocuzzo fu considerato come una delle cause che determinò la sconfitta del PD e favorì l'elezione di Ioppolo. Dal punto di vista politico noi abbiamo costruito una grande sinergia tra tutti gli attori del centrosinistra che in passato sono stati divisi, ci siamo aperti alla società civile, abbiamo aggregato tanti uomini e tante donne di buona volontà e oggi insieme presentiamo un grande progetto politico di rinnovamento e di riscatto che guarda i giovani, che guarda le associazioni di volontariato, che guarda ad ogni uomo e ad ogni donna di queste città. E per restare in tema politico alla luce di questi cinque anni trascorsi il candidato sindaco Fabio Rocuzzo nel contestato e la gestione del sindaco Gino Ioppolo rimprovera lo stesso che il sindaco sciente sta lasciando una città abbandonata a se stessa e con un'assenza di strategie. L'amministrazione Ioppolo rimprovera un'assenza di visione, un'assenza di strategia, una città abbandonata a se stessa, frutto della sola e peraltro pessima ordinaria amministrazione, una città che invece ha bisogno di un respiro largo, di guardare al territorio, di costruire sinergie nel Calatino, di tornare ad essere leader di un territorio del quale è sempre stata leader Caltagirone e che invece oggi sconta inadeguatezza e marginalità. Questa è una grande pecca, io spero che il futuro riservi a Caltagirone, alla nostra città, ciò che merita, cioè la capacità di essere aggregatore di idee, di territori e di creare sviluppo economico e nuova occupazione. Quanto alla situazione economica e finanziaria delle casse comunali legate alla furicita dal dissesto finanziario, Fabio Rocuzzo ritiene che la città rimane sempre in una grande condizione di sofferenza economica e che non c'è stata una reale fuoriuscita dal dissesto. La situazione finanziaria non è migliorata, è stata sapientemente occultata. Caltagirone era e rimane in una grave condizione di sofferenza finanziaria e la nuova amministrazione sarà chiamata a compiere uno sforzo rilevantissimo per migliorare i conti, per determinare un profilo di entrate tributarie adeguato e per garantire servizi di eccellenza. Quanto agli obiettivi e punti cardine del suo programma elettorale, Rocuzzo antepone la sanità come tema prioritario, puntando l'indice contro il governo regionale che a suo dire ha depotenziato l'ospedale Gravina. Sulla sanità io credo che si giochi la partita del futuro. I cittadini di Caltagirone e di questo territorio hanno tutto il diritto di avere una sanità di qualità. Negli ultimi anni il governo regionale ha fortemente depotenziato l'ospedale di Caltagirone. La nuova amministrazione dovrà spendersi per mettersi al fianco di tutti gli operatori sanitari, dei medici, degli infermieri e del personale amministrativo per garantire ad ogni cittadino di Caltagirone del territorio un ospedale e una sanità di eccellenza e di qualità. Sempre in materia di programmi Rocuzzo ritiene che la linea politica da seguire sia quella di fare rete con i comuni del Val di Noto e con Piazza Armerina per valorizzare le attuali potenzialità turistiche. Fare rete è fondamentale, da soli non si va da nessuna parte. Le strategie vanno condivise e praticate insieme agli altri. Bisogna costruire una sinergia con tutti i comuni del distretto turistico del Val di Noto, con Piazza Armerina. Bisogna lavorare per presentare la nostra città dentro un quadro di offerta turistica che non sia circoscritto e marginale ma che al contrario sappia valorizzare l'esistente. Fare rete è un valore aggiunto. Essere autoreferenziali come lo è stata questa città negli ultimi cinque anni è una pecca enorme che va del tutto cancellata.